Paolo Butturini è il vice segretario della Federazione Nazionale della Stampa, oggi affoggia per parlare di giornalismo d'inchiesta, per parlare di invisibili. Partiamo da questa definizione, chi sono intanto questi invisibili? Gli invisibili sono soprattutto quei colleghi e quelle colleghe che lavorano proprio nelle province italiane e che quotidianamente sono a contatto con i fenomeni della criminalità in genere, della criminalità organizzata in particolare e spesso, questo lo dico da sindacalista, non si vedono riconosciuti i diritti ai quali dovrebbero accedere, per esempio un contratto, una posizione previdenziale, un'assicurazione, una testata che si faccia carico di affrontare tutte le tematiche laterali che un mestiere come il nostro comporta, per esempio querele o attacchi di evidente natura strumentale rispetto al lavoro che si fa di investigazione sul territorio. Il sindacato cosa può fare poi materialmente per un proprio iscritto, comunque per un collega magari non contrattualizzato che poi alla fine dice ma che mi interessa poi occuparmi di criminalità e cose importanti di questo genere se poi non sono neanche contrattualizzato? Il sindacato cosa può fare? Il sindacato sta cercando già di fare delle cose, ha aperto sportelli legali in tutte le associazioni regionali di stampa, ha costituito una commissione nazionale di lavoro autonomo che si occupa proprio dei colleghi che svolgono la professione come collaboratori o freelance, sta cercando di inserire nel contratto prossimo venturo, ci auguriamo, delle norme che prevedano per esempio una figura nuova e diversa che è quella del collaboratore di redazione, vale a dire qualcuno che ha la facoltà di fare il proprio lavoro senza essere necessariamente presente in redazione e sono poi in realtà le figure che tengono in piedi l'informazione soprattutto nelle province italiane. Quindi questo è il tema del prossimo rinnovo contrattuale, il tema centrale, non è solo l'occupazione ma è recuperare professionalità che già esistono sui territori e che non vengono riconosciute.